E oggi un buongiorno direttamente dall'auto. Con un tempo un po' strano, a volte ne vischia, a volte grandina, a volte piove e in questo momento a quanto pare il cielo si sta aprendo e sta uscendo un timido sole. Non ci possiamo lamentare qui a Roma per carità di Dio, anche perché insomma in altre regioni ha fatto molto, molto di peggio e quindi dai non ci possiamo lamentare. Sono qui al centro ematologico di Roma in attesa e nel frattempo ho detto perché no, un salutino al volo e un ringraziamento perché ancora non l'ho fatto, sono arrivata finalmente al traguardo dei 1000 iscritti grazie a voi e vi ringrazio davvero di cuore, ma tanto tanto e poi farò una live in cui potrò ringraziarvi direttamente dal vivo. Adesso non so in che modo la farò, comunque giuro la farò. Non so come, devo organizzarmi e vedere un po', ma sicuramente la farò. Ora vi lascio, non senza darvi un abbraccio collettivo, un bacio uno per uno e lascerò nell'info box un link che porta a un video che vale la pena davvero di vedere. Un bacio e buon giorno da tutti.